Seconda domanda, finale di Coppa di Lega scozzese, mi ha parlato di FK, giocherà un calciatore italiano il prossimo 18 marzo? La finale, chi è il calciatore italiano? Non è questa la domanda, la finale è Celtic-Kilmarnock, Rangers-Berlin, Kilmarnock-Zwonsi o Celtic-Rangers? Allora sicuro sarà Pascali del Kilmarnock, credo, il giocatore italiano, quindi penso sia lui. Allora chiedemelo, sei tu? Manuel Pascali, chiedelo, Manuel Pascali sei te che giocherà la finale? Manuel Pascali è il 18 marzo, eccomi! Ehi, andiamo a mano, è bravo, è costa esatta! Grande déjà vu, è una seconda volta il collegamento, ma quanto segna? Sì, ne ho un pochino, ci abbiamo messo 109 minuti a segnare il semifinale, ma ci sono andato vicino, però il loro portiere è in versione Superman. Ah sì, ma certo, ci hanno detto che sei stato accolto da un bellissimo striscione all'ingresso in campo. Chiaro, sì, è stato carino, i tifosi dell'Air hanno avuto il piacere, non so, magari usando Google Translate o comunque le prime cose che si imparano in una lingua conosciuta sono sempre le cose più belle, ecco, e quindi mi hanno apporto con qualcosa di carino, di simpatico, di italiano, ma mi ha fatto il piacere! Sì, ti sei vindicato! Ma è vero che tu sei il tifoso del Lecce, quindi straveni per lo Svaldo, che ha giocato con la maglia di legge? Sì, io sono tifoso interista, però ho fatto anche leccese, puro sangue, quindi simpatizzo per il Lecce, sì, sì, quello sì! E tu lo scrivi anche su Facebook, Svaldo, tu sei cresciuto e maturato anche grazie a Zemmatt, no? Sì, sì, Zemmatt, per me è stato molto importante, un grande allenatore. Eh, senti, veniamo a trovarti per la finale di Coppa di Lega Scozzese, va bene, il 18 marzo? Ma volentieri! Viene tutta la squadra di Mondogoro a casa tua, hai un bell'artico, un buono locale, cos'hai lì a filmarmi? No, no, un ammolestissimo flat, però ci stringeremo, sarà un piacere ospedale. Grazie mille, grazie Manuel, grazie a voi, continuiamo a seguirti, grazie, bravo, puoi sederti.